La festa dell'unità si chiude con Eli Schlein e Francesco Boccia, la prima con un dibattito che doveva essere a tre ma che si riduce a due per l'assenza del presidente della regione emiliano impedito da una indisposizione. Il dato politico più evidente è stato il ritrovarsi su temi e prospettive tra la segretaria nazionale e il sindaco di Taranto Melucci moderati bene dal vice segretario Francesco Cacciapaglia. Il pieno appoggio al nostro sindaco Rinaldo Melucci al lavoro prezioso che sta facendo per la città di Taranto e al lavoro che ci aspetta anche sul progetto di decarbonizzazione su cui purtroppo il governo che ha messo a rischio perché facendo saltare quel miliardo di fondi del PNRR previsti proprio sulla decarbonizzazione sta mettendo a rischio anche il futuro di Taranto e noi non ci facciamo fregare dal fatto che dicano che metteranno altri fondi come gli FSC perché comunque sono altre risorse che aspettavano i territori e le regioni e quindi da questo punto di vista vuol dire che non stanno comunque scusi sto parlando da questo punto di vista io penso che sia un gioco delle tre carte quello del governo che toglie comunque risorse a questo territorio le prende da una parte le mette da un'altra non è una cosa seria siamo qui a Taranto proprio per ribadire la vicinanza al progetto per Taranto del sindaco. Complimenti al Partito Democratico che al di là del brand della festa dell'unità si interroga torna in mezzo alla gente e comprende che insomma la politica oggi deve essere questa meno ideologie sicuramente più impatto sulla vita delle persone e credo che il Partito Democratico questo lo sappia fare bene a cominciare da una città dove sapete insomma il processo di transizione di decarbonizzazione la diversificazione produttiva l'ha fatta il PD e poi si può mestificare quanto si vuole però sono le amministrazioni locali del centro-sinistra che negli ultimi dieci anni hanno dato la virata a questa città. A chiudere la serata il dibattito tra il capogruppo al Senato Boccia l'onorevole Ubaldo Pagano la vicepresidente pugliese del partito Francesca Vigiano e il dirigente nazionale Marco Saraggino il contrasto a questo governo la ritrovata dicono unità del partito ma il tema centrale resta ancora come unire questo centro-sinistra spesso rissoso dall'altra parte del fronte Meloni Salvini e Tajani non la pensano allo stesso modo e si sa ma le elezioni vanno compatti e vincono. Sono piazze che ci responsabilizzano perché significa che è ripartita la connessione sentimentale tra il grande popolo della sinistra unita perché noi vogliamo unirla dei progressisti uniti